Scopo il pradovo, si, al momento in inglese 5 avr'ordine del fermo, in quarta anno passa approvazione schema di regolamento di polizia urbana, 1, 2, 6 approvazione schema di regolamento di polizia urbana, lo consideriamo fatto la metà da tutti il primo è fatto questo secondo chi approva chi si estiene chi lo racconta lo vedremo di il mio amore per i dati questi grazie poi argomento numero 7 approvazione del regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di parlamento grazie ci sono soluzioni allora vi approva chi si estiene grazie grazie Argomento numero 8. Approvazione schema regolamento per la tutela, la detenzione e la tenenza dei genitali e per una migliore convivenza con la collettività umana. Sempre quella di Pontano Veneto, ricordiamoci che passiamo ai modi e allora la tua prova è chi si astiene, chi vuole accontro. Preparere il Consiglio di Cristina Brattisani, grazie a tutti. Grazie.